Cassotti e Stroppa nei pressi del pallone, parte il cross di Stroppa e c'è ancora un atterramento stavolta, il rigore viene concesso, è stato messo a terra Borgonovo. Con quanta cura mettono a posto dei vini del possibile l'infame terreno di gioco i milanisti. Chi va a tirare? Naturalmente è Van Basten che si presenta di fronte ad Haumann, parte Van Basten, tiro! Polla del Milan, Marco Van Basten porta in vantaggio su calcio di rigore il Milan al 32esimo del secondo tempo, esplode in un urlo di liberazione San Siro, rivediamo Van Basten, rincorsa decisa. E gol! Uno da fare per Haumann. Intanto in cuffia intervengono delle segnalazioni di servizio, non vorrei che andassero anche in onda. Van Basten, 32esimo del secondo tempo, situazione sbloccata.